io sono arrivato al paradosso che mi auguro che voi sentiate stasera per impazzire e forse dare fiducia alla vostra voce che la voce sta in un punto molto ben preciso molto bene a fuoco e poi ve lo farò sentire dov'è questo punto dentro di voi ed è un punto che coincide con uno spazio ma quindi è un punto ben preciso localizzato o è uno spazio e vi potrei dire che in quello spazio voi avete una sensazione di infinito quindi dentro di voi c'è un punto che coincide con uno spazio infinito sono pazzo sì perché sono vere entrambe quanto sono false entrambe ma quando voi lo sentite wow vi scatta una parola grazie e mi stanno venendo non so se voi ho detto la pelle d'oca ma mi stanno venendo i brividi perché è un grazie che non è grazie a tosoni che mi ha spiegato tosoni è uno di noi punto è grazie perché ho sentito che dentro di me wow c'è un punto che profuma di infinito grazie a tutti